Io mi sentivo talmente in colpa che ho dovuto fare qualcosa nella mia vita Bruciatela Da chi ho bevuto meglio o meglio? Peggio è impossibile ricordarselo, peggio in Svizzera Avevano un rum, mi stavo facendo dei coca rum, erano buonissimi all'apparenza però Però in realtà c'era un rum pessimo, ho smesso di fumare dopo quella bevuta Dove prendete? Proprio domani Perché cosa fai Torino? Devo andare al concerto del mitico Vasco per lavorare, attenzione ci tengo a specificare Perché faccio saltare i nervi? Più spesso, quasi male Grande Vasco Fa rinervosire un determinato tipo di persona Sì No no, io li faccio saltare i nervi Perché li fai saltare spesso? Poi rimedio, comunque dopo rimedio ecco Se me ne accorgo ci tengo a rimediare Devi rincorrerla No, non ne voglio Cosa assaggerò per colpa sua? Per colpa sua niente, visto che lei non si fa mangiare Io non mangerò proprio niente Tu non mangerai niente Assaggerò un bel niente per colpa sua Perché la ragosta non si fa assaggiare Non si fa mangiare, no Mi stai dura Come Che puro Suonerò Ah 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 Come suonerò Senza accorgermi È impossibile Perché non Uno non può Accorgersi di non accorgersi di suonare No, quindi Si potrebbe essere Quindi non è possibile Quando Passavolta passato Quando Ho scordato Davanti a tutti Niente, scusatemi Mi dimentico spesso le chiavi di caso Ma non ti imbarazza questa cosa? Si, mi sento un po' scemo Carino E' un po' il rimedio Comunque E' un po' il rimedio E' un po' luminoso Stop Stop Vado C'è di specchi Ah C'è di specchi Già Z boss E' un po' di